La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità Approvata nel 2006 e ratificata dall'Italia come legge dello Stato nel 2009 All'articolo 30 sancisce la partecipazione su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e agli sport A Torino, dal 2007, è attiva l'Unità Spinale Unipolare, la più grande in Italia per la cura e la riabilitazione delle lesioni del midollo spinale Una struttura con 64 posti letto dotata di tecnologie avanzatissime È qui che le persone ritrovano speranza e stimoli per il futuro È qui che le persone si riappropriano della loro vita L'Unità Spinale Unipolare di Torino è stata una delle prime realtà ospedaliere ad avere attivato al suo interno l'attività di sport terapia Di cosa si tratta? Chi meglio della dottoressa Silvia Colti, fisioterapista responsabile del progetto, può spiegarcelo? La sport terapia a Torino nasce nel 1996, praticamente al CRF arriva il primo tavolo da ping pong Nel 2003 incominciamo a collaborare con Riverside e quindi a svolgere tennis con Margherita Vigliano Con il 2007 ci trasferiamo nella nuova Unità Spinale qua Le attività che erano già iniziate su come il ping pong, il tennis, la scherma, vengono portate giù E da lì si aumentano altre attività Per cui a oggi si fa il canottaggio, il tiro con l'arco, il ping pong, il basket, la scherma e il tennis Lo sport terapia viene sfruttato all'interno dell'unità spinale non come mezzo per trovare un atleta a tutti i costi Non è questo il fine principe dell'attività ma è un mezzo che viene utilizzato ai fini della riabilitazione Quindi non è la fisioterapia che si deve adattare allo sport ma è lo sport che viene utilizzato e che si adatta alla riabilitazione L'obiettivo dello sport terapia è quello di diminuire gli effetti della menomazione Che possono nel tempo creare disabilità e portare all'endicap Ma l'attività di sport terapia non sarebbe possibile senza la collaborazione e la partecipazione dei tecnici delle società torinesi Che con il loro bagaglio di esperienza sono stati determinanti nel mettere lo sport al servizio della terapia riabilitativa Patrizia Sacà, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Barcellona 1992 18 volte campionessa italiana e tra le prime 10 giocatrici al mondo per quasi 20 anni nel tennis tavolo È stata una delle prime ad avvicinarsi all'unità spinale per proporre ai pazienti la sua disciplina Ho cominciato all'unità spinale di Torino al CTO negli anni 2000 In seguito a un mio problema ad una spalla e non ho potuto partecipare alle Paralimpiadi di Sydney E quindi avendo così del tempo da dedicare su consiglio di Silvia Colti che è la responsabile dello sport e di Paola Magliola Ho deciso di provare, inventare e fare attività all'interno dell'unità spinale Da allora ad adesso le cose sono cambiate molto perché ne ho fatto quasi una professione Se non quasi una ragione, insomma, diciamo un trasmettere alle persone che come me hanno avuto un incidente La possibilità di continuare ad essere quello che erano attraverso lo sport Utilizziamo il tennis tavolo come mezzo riabilitativo Vale a dire una persona che ha una capacità residua di un braccio Silvia sceglie gli schemi da fare e io divento l'operatore che dà la palla in quel dato punto dove serve per la mobilità della persona che ha comunque la disabilità Non necessariamente deve essere una cosa a livello agonistico A me non interessa, a me interessa l'avviamento allo sport Questa è una cosa che per me è fondamentale Da quest'anno ho fatto la scommessa di diventare istruttore di yoga Lo yoga credo che sia molto molto importante per la respirazione, per la postura A me ha fatto molto bene E lo dimostra il fatto che nonostante i miei 47 anni di paraplegia Sto bene, sono sana in un corpo rotto come dico io Andrea Pontillo è un altro dei grandi protagonisti della sport terapia Il maestro del Lamerotanti Woolchair Fancy Club Ha portato la scherma in carrozzina all'interno dell'Uso La scherma paralimpica è uno dei tanti sport che viene praticato all'unità spinale E aiuta i pazienti proprio alla riabilitazione funzionale Il corso viene svolto nell'ora di tronco con una fisioterapista Con la quale lavoriamo proprio per andare a recuperare quel residuo muscolare degli addominali Che potrebbe ancora essere attivato Per cui facciamo movimenti di affondo, movimenti di difesa, di attacco E giochiamo cercando di far muovere diciamo quelle parti del corpo Che dovrebbero essere mosse con esercizi che magari possono essere un po' annoianti e ripetitivi Invece con il gioco riescono ad essere passabili diciamo Gli strumenti utilizzati sono ovviamente fioretto maschera di plastica Perché così chiunque può tirare di scherma E poi ci sono degli ausili tipo cuscini o sedute particolari In modo tale da mettere in difficoltà il più possibile il paziente In modo che reagisca adattandosi all'equilibrio con molta disinvoltura Questo può aiutare anche nella vita quotidiana ad abituarsi alle difficoltà che potrebbe incontrare Terminata l'attività sportiva in unità spinale Le persone possono praticare attività amatoriale o agonistica nelle palestre di scherma Ovviamente gli obiettivi sono strettamente personali Per cui uno può mirare a una Paralimpiade Ma una piccola Paralimpiade può anche essere l'attività quotidiana Nel cercare di raggiungere determinati obiettivi Che appunto attraverso l'attività sportiva si possono raggiungere I veri interpreti della sport terapia sono i pazienti Persone che con grande coraggio e forza di volontà Hanno deciso di rielaborare la propria disabilità Convogliando le energie nell'attività fisica Io ho iniziato a giocare a tennis tavolo in carrozzina all'unità spinale Grazie a Patrizia Sacca Che mi ha visto la prima volta Mi ha detto che se volevo potevo iniziare a giocare Io all'inizio ero un po' scettico perché pensavo di non riuscire a giocare Però dopo ho iniziato e ho visto che riuscivo a giocare E che insomma i colpi mi venivano E mi venivano anche bene Nel 2015 ho partecipato per la prima volta ai campionati italiani Nella categoria Under 23 sono arrivato terzo Preso medaglia di bronzo E dopo quell'esperienza il direttore tecnico della nazionale Ha deciso di convocarmi il febbraio dell'anno dopo Quindi febbraio 2016 Ha deciso di convocarmi nazionale In un torneo internazionale all'Indiano Sabbiadoro Quest'anno nel 2017 ho di nuovo partecipato ai campionati italiani di tennis tavolo E sempre nella categoria Under 23 stavolta ho preso la medaglia d'argento E sono arrivato al secondo posto E dopo ho continuato ad allenarmi E continuerò ad allenarmi perché è un bellissimo sport Mi piace È completo, è tecnico E niente E adesso sono arrivato qua a questo punto Io sono Giuliana Sono ricoverata in unità spinale dal 4 di ottobre dell'anno scorso Quindi 2016 Per una frattura a scoppio di una vertebra Della colonna vertebrale post-incidente I primi tre mesi qua in unità spinale sono stati di riposo Dopodiché da gennaio in poi ho iniziato a praticare tutti gli sport che mi sono stati proposti Questo perché la mia mentalità da sportiva non si è resa di fronte al trauma E poi anche proprio il mio fisico ne richiedeva Così ho iniziato a fare canotaggio Ho iniziato a fare tennis tavolo Ho iniziato con la piscina Ho iniziato con la scherma Queste attività le continuerò anche nella realtà del Cuneese Dove tornerò a casa E ho preso già i contatti Tennis sarà possibile Tennis tavolo oppure scherma anche Un altro passettino importante È stato iniziare a guidare con i comandi differenziati In quanto nonostante una lesione completa midollare La gamba sinistra si è risvegliata Per cui ho buono il piede sinistro All'inizio avevo tanto timore di provare di nuovo a guidare Rotto il ghiaccio Invece mi sono resa conto che non devo aver paura Non devo aver timori La mia gamba sinistra riesco a controllarla E soprattutto il fattore macchina È un grande fattore per noi disabili Per l'indipendenza Altrimenti si rischia di essere sempre alle dipendenze di altri Per un atleta con disabilità Il massimo livello sportivo raggiungibile È rappresentato dalle Paralimpiadi Andrea Macri Giocatore di Para Ice Hockey Della nazionale in forza ai torri seduti di sport di più Ce l'ha fatta con grande determinazione e grande impegno Dall'unità spinale di Torino È iniziato il suo percorso Che l'ha portato a partecipare ai giochi invernali di Socci 2014 La mia storia è cominciata a novembre del 2008 Quando alla scuola, al liceo Darwin di Rivoli Era crollato il famoso controsoffitto in quell'aula E tutto è cominciato da lì Perché sono stato colpito dal controsoffitto Direttamente sulla schiena E da quell'incidente è nato poi tutto Sono stato ricoverato all'unità spinale di Torino Per nove mesi circa Da lì ho cominciato il mio percorso di sport terapia Non mi aspettavo assolutamente di riuscire ad arrivare così in alto Come livello sportivo E soprattutto non in così poco tempo Sono riuscito comunque con tanti sacrifici Ad arrivare alla partecipazione di due Paralimpiadi in quattro anni Quindi un'invernale e un'estiva Non è una cosa da tutti anche da quello che poi ho scoperto in seguito È una cosa di cui vado comunque molto fiero La cerimonia di apertura e chiusura di entrambe le edizioni che ho vissuto Sono state incredibili Sicuramente l'entrata dentro lo stadio La famosa sfilata È la cosa che credo ogni atleta sogna di vivere Nella propria carriera sportiva L'effettiva inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport Passa solo dal raggiungimento di altissimi obiettivi agonistici? La presenza di modelli estremamente vincenti ha solo dei benefici O rischia di essere frustante? Per cercare di trovare delle risposte adeguate alle nostre domande Siamo scesi sul campo laddove l'inclusione sociale ha inizio Per raccontare un paio di esperienze sportive dal basso Uno dei punti di vista più interessanti è quello dello sport di squadra Le testimonianze del giocatore di basket in carrozzina dell'HB Torino Uicep Dris Saeed E del suo allenatore giocatore Andrea Rocca Atleta paralimpico ad Atene 2004 Ci possono essere molto utili Ok, sono nato in Marocco All'età di sette anni circa Sono appunto arrivato con la mia famiglia qui in Italia Ho perciò fatto tutte le scuole Dalle elementari fino alle superiori qua in Italia Quindi si può dire che diciamo che sono cresciuto qua All'età di 12 anni in un viaggio di ritorno dal Marocco a qua Io e la mia famiglia abbiamo avuto appunto un incidente Che diciamo mi ha cambiato un po' la vita Perché è come se io fossi rinato Sono un'altra persona diciamo Sia perché adesso vivo su una carrozzina Sia perché veramente la mia vita è cambiata totalmente Qualcosa che mi ha aiutato di più a riprendermi dopo l'incidente È stato il basket Dopo aver visto il primo allenamento Ho provato a mettermi un attimo in gioco E a provare la carrozzina, qualche palleggio, qualche passaggio Dicevo l'impatto non è stato molto facile Perché è molto complicato poi riuscire sia a spingere che a palleggiare Poi il tiro è molto più difficile Perché partendo dal basso è tutto un altro mondo L'11 luglio finalmente ho giurato fedeltà alla Repubblica Alla Costituzione e alle sue leggi E quindi sono diventato dal 12 luglio cittadino italiano La cittadinanza mi permette appunto di essere convocato in nazionale Questo era uno degli aspetti che mi interessavano di più Anche perché è da tanti anni che desidero con tanta voglia E di poter giocare per la nozione italiana Sia perché io mi sento totalmente italiano Come mi sento totalmente marocchino Purtroppo il razzismo e le discriminazioni esistono anche nel mondo del paralimpico Diciamo che ogni tanto veniva fuori qualche coro Qualche urlo poco simpatico Qualche insulto poco simpatico Di natura discriminatoria Ho cominciato a giocare a basket in carrozzina all'età di 15 anni Dopo un incidente motociclistico Con Milano e Roma sono riuscito ad arrivare a livelli alti A livello internazionale e nazionale Vincendo Coppa dei Campioni, Coppa Vergauen Due Scudetti, due Coppa Italia Ho giocato anche per tanti anni Una decina d'anni in nazionale Dove sono riuscito ad arrivare a concludere Una buona parte, anzi Tutti gli obiettivi che mi ero proposto Vincendo due campionati europei Partecipando alla Paralimpiade di Atene E a un campionato del mondo nel 2006 Nello sport individuale Ti devi confrontare solo con te stesso E col tuo avversario Invece nello sport di squadra Nel basket sei in 5 in campo Ma sei anche di più Siamo in 12 di solito che ci alleniamo E quindi è tutto un percorso che si crea insieme Quindi da inizio stagione ci si confronta Si discutono gli obiettivi E di lì si cresce insieme Quindi ti devi adattare al tuo compagno Ti devi adattare all'allenatore Cercare di diciamo remare tutti insieme Per arrivare all'obiettivo Parlando di piena inclusione Luca Paiardi è l'esempio che calza a pennello Architetto, musicista affermato E tenista in carrozzina al numero 7 del ranking italiano Nella sua vita non ha mai rinunciato a nulla Sperimentando attraverso molte attività estreme I propri limiti Luca si è formato con Sport Happenings La società sportiva fondata da Margherita Vigliano Maestra nazionale fit Già responsabile tecnico Delle nazionali femminili e maschili Con la testimonianza di altri due atleti Luca e Margherita ragionano sul concetto di limite E sul vero ruolo dello sport nell'inclusione sociale Guarda io ti posso parlare della mia esperienza Penso che lo sport ti aiuti a esplorare i limiti Quindi porseli a priori non avrebbe senso in questa visione Ma proprio perché l'ho sperimentato Quindi soprattutto per una persona disabile Ma questo vale penso un po' per tutti Lo sport ti aiuta ad andare a vedere quelli che sono i tuoi limiti Provare a superarli Oppure giocarci su Quindi giocare su quello che è il fermarsi prima o andare oltre Per superare le proprie paure bisogna provarci Perché se non ci si prova ovviamente non ci si riesce E poi è una questione di appunto Lavorarci su Non avere fretta E arrivare quindi a capire laddove ci si possa migliorare Credo che l'attività sportiva e lo sport in generale Sia un ottimo mezzo per l'inclusione sociale E aiuti il confronto tra persone Anche persone molto differenti Di cultura differenti Di abilità differenti E tutto questo quindi È un ottimo terreno laddove mettere da parte le proprie differenze E ritrovarsi sullo stesso piano per mettersi in gioco Ho insegnato tutta la vita E il mio obiettivo come insegnante è stato Primo di essere un educatore Di insegnare ai ragazzi il valore dello sport Il secondo obiettivo è sempre stato quello di cercare di tirare fuori il meglio possibile da ogni persona Anche se questa persona aveva dei grandi limiti Ho insegnato anche a persone con disabilità mentali Con disabilità fisiche di diverso tipo Mi chiamo Mauro Fasano Abito ad Aquitarme in provincia di Alessandria Ho conosciuto il tennis un anno e mezzo fa Ho iniziato a giocare a tennis in un altro circolo E poi ho conosciuto un amico Luca Pagliardi E conoscendo lui sono passato in un altro circolo a giocare a tennis Che è lo sport happening di Torino Io abito ad Aquitarme in provincia di Alessandria Quindi per venire a giocare a tennis Per fare gli allenamenti, la preparazione Vengo su in auto In autonomia Quando mi hanno diagnosticato la malattia Ho detto qui devo ricominciare Ho scelto il tennis perché mi dà molta soddisfazione Mi fa stare all'aria aperta Mi dà possibilità di conoscere tantissimi altri ragazzi Che giocano in tennis in calazzina Prima di tutto cercare di dare il meglio di se stessi E porsi dei piccoli obiettivi ogni volta E raggiungerli Cercando poi di graduare questi obiettivi Su quelle che erano le potenzialità del mio allievo Senza mai illuderlo Perché se no diventa frustrante E poi non riuscire a raggiungere determinati scopi Ma al tempo stesso fare sì che la sua autostima migliorasse col tempo Dargli sicurezza Dargli la percezione delle proprie possibilità Dargli forza Che è poi quella che serve per affrontare i problemi quotidiani della vita Mi chiamo Roberto Toso Ho 43 anni Vivo a Biella Undici anni fa ho avuto un incidente motociclistico Che mi ha provocato appunto una lesione E oltre ad essere un praticante dello sport a livello agonistico Sono anche un presidente di un'associazione Onlus All'interno di un'unità spinale Che si occupa appunto di inserimento sociale e lavorativo Questa piccola parentesi per dire che vivendo nel quotidiano Questa realtà importante che è aiutare le persone a riprendersi la vita Vedo lo sport come un ottimo traghetto per riprendersi la propria vita E un inserimento all'interno della società Questo perché io giocavo già a tennis prima dell'incidente Poi appena ho conosciuto questo mondo mi sono subito appassionato E gioco all'interno di un circolo Che praticamente sono l'unica persona in carrozzina che gioca Lì vicino nel Biellese Però gioco con la mia compagna e tutti i miei amici E questo è un ottimo stimolo per condividere Oltre che tutto quello che si può nella vita quotidiana Anche a livello sportivo condividere qualcosa con i miei amici Poi ho conosciuto Sport Happening un anno fa Perché mi sono iscritto a un torneo Anche se non ero iscritto a nessuna società sportiva di tennis in carrozzina Mi sono iscritto a un paio di tornei Ho conosciuto questo gruppo molto affietato che è di Sport Happening Mi hanno chiesto se volevo venire a giocare con loro Per poter condividere anche gli allenamenti e per potermi confrontare Anche con altre persone che giocano in carrozzina Mi è piaciuto molto Ho provato e adesso da quest'anno sono tesserato per loro Mi piace perché questo mondo mi permette anche attraverso i tornei Che facciamo in giro per l'Italia Di condividere oltre che una passione sportiva Anche 3-4 bellissime giornate passate insieme Conoscendo atleti che arrivano da tutta parte d'Italia E anche dal mondo per gli internazionali E poter trascorrere anche dei bei momenti insieme Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio che Ci auguriamo sia stato piacevole L'obiettivo dei nostri racconti di sport Non era quello di fornire verità assolute Ma al contrario Stimolare una riflessione su un tema molto complesso Vincere una medaglia alle Paralimpiadi Non è obbligatorio Ma è un sogno che può essere alla portata Di chi è disposto a fare sacrifici e allenarsi duramente Sta ad ognuno di noi capire quali sono i propri obiettivi I propri limiti e trovare la propria strada Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti